A 90 minuti dal termine va in scena un autentico spareggio tra Aspoltore e Sambuceto, Ronci torna da avversario, Aspoltore si comincia subito con Gliasulgrana in avanti, due minuti di gioco, Colecchia ci prova, ma Dedeo si rifugia in calcio d'angolo, sempre da calcio d'angolo ci prova Di Renzo, il suo colpo di testa viene fermato nuovamente dal numero uno ospite, lo scatenato Colecchia ci prova al ventunesimo minuto, il traversone per Selvallegra che però non inquadra lo specchio della porta. Nuovamente Sambuceto per Selvallegra, conclusione centrale e Dedeo non ha problemi a bloccare la sfera, si vede il Sambuceto al ventitresimo minuto, Pellecchia direttamente da calcio di punizione, centra la traversa, nell'occasione si fa male, Palena che rimane a terra per un paio di minuti, ma riprende regolarmente il gioco. Nuovamente il Sambuceto, attacco centrale di Barov che apre per Marfisi, ma il suo piattone finisce al lato di un soffio. Giro di lancette, gli ospiti passano, Ranieri conquista palla a centrocampo, forse con un fallo su Belli, ma l'arbitro fa proseguire e il centravanti realizza un gran gol, portando in vantaggio il Sambuceto, vibranti le proteste dei padroni di casa. Passano tre minuti allo spoltore, pareggia con Selvallegra servito da Petraluro, ma il gol viene annullato per una posizione di fuorigioco. Ecco le immagini montate da Emiliano Gigliotti, passiamo alla ripresa, 30 secondi di gioco, subito Ranieri conquista palla, si gira, difesa dello spoltore immobile e 2-0, doppietta per l'ex di turno. Quinto minuto ci prova lo spoltore, calcio di punizione di Belli dalla trequarta, il colpo di testa del giocatore allenatore Di Camillo che termina sul fondo. Al sesto minuto proteste spoltoresi per un presunto fallo in area di rigore, ma anche in questo caso il direttore di gara fa proseguire l'azione. Minuto 17, Pellecchia, sempre lui, calcio di punizione da posizione defilata, centra il palo alla destra di Palena. Al minuto 23 lo spoltore riapre la gara, calcio di punizione di Belli, sinistro per Petraluro che infila Dedeo per il 2-1. Minuto 28 ci prova Marfisim, la sua conclusione è centrale. Capovolgimento di fronte e Selva Allegra impegna Dedeo che si rifugia in calcio d'angolo. Lo spauracchio Ranieri al minuto 32 prova a far male di nuovo, ma la sua conclusione finisce sul fondo. Minuto 33, combinazione Colasante e Petraluro, la conclusione del centravanti marchigiano, però non inquadra lo specchio. Al minuto 35 è Sambuceto con Marfisi, Palena sventa la minaccia. L'ultima azione degna di nota è di Colasante che libera al tiro Selva Allegra, respinto nuovamente dal portiere ospite. Termina con il Sambuceto che spugna il Caprarese e conquista aritmeticamente la salvezza. Discorso rimandato invece per lo spoltore. Sì, guarda, era una gara fondamentale per tutte e due, da dentro fuori. Chiaramente noi ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto una grande gara, ma anche loro, bella partita. Queste due squadre meritavano tutte e due la salvezza diretta. Niente, io spero che lo spoltore che ho visto bene oggi si salvi o direttamente o ai play-out. È stata una bella partita e ho visto un giocatore su tutti che è Francesco Ranieri. Un altro ex della gara. Un altro ex. Non lo so, la partita è stata combattuta, ma lui è una categoria superiore. Ha dato qualcosa in più. Ha dato qualcosa in più. I 21 erano alla stessa altezza, ma lui ha una marcia in più, come ripeto. Sì, sì, vabbè, alcune recriminazioni arbitrali, soprattutto penso sul primo gol. Però, vabbè, non deve essere assolutamente un alibi. Loro sono stati più bravi di noi nello sfruttare le occasioni che hanno avuto. Noi abbiamo creato abbastanza, abbiamo creato tanto, abbiamo giocato bene dal punto di vista tecnico. La partita che avevamo impostato durante la settimana e ai ragazzi in D'Ospiratoio li ho ringraziati perché se comunque continuiamo a giocare con questa testa, così io penso che meritiamo la salvezza.